Siamo tutti al Salam! La ila illa illa allah! L'ultimo commosso saluto ad Abdel El Salam si è svolto questa mattina al Centro Culturale Islamico di Strada Kaorsana. La salma del Facchino, morto mercoledì scorso investito da un camion in uscita dal magazzino della GLS, è stata portata dall'obitorio al Centro Islamico per un'ultima preghiera. Le lacrime della vedova di Abdel El Salam hanno riempito il centro e commosso tutti i presenti, fra cui il figlio e il fratello del defunto. Alla preghiera è seguito un breve corteo lungo strada caorsana, dopodiché la salma è stata portata verso l'aeroporto. Proprio quest'oggi, infatti, la famiglia raggiungerà l'Egitto, paese natale di Abdel El Salam, dove si svolgeranno i funerali.